Signore e signori eccoci qua con lui, un uomo un perché, è tutto vestito in nero perché è già pronto al lutto, si sta per sposare, è la morte della libertà deee, sotto un belico, per dire l'elegante, però è felice, giusto? Stasera si sono felicissimo, sei innamorato stasera, domani vedremo, quindi oggi hai schiacciato? Oggi no, non mi ero fatto lasciare la bambola gonfiabile all'entrata, volevo schiacciare con lei, però ti riattiviamo i sensi, guardati attorno dimmi cosa provi, ti vedo già un po' più felice, bene sono contento, raccontaci un po' di te, di dove sei? Perudiano, diciamo dalla base Cosa fai nella vita? Io faccio controllo qualità in una dita meccanica, faccio controllo qualità in una dita meccanica Oh è fantastico, ci piace, quindi vai dal tubo e gli dici ciao tubo, ti senti abbastanza tubo oggi? Sì Qual è il suo piatto preferito? Le lasagne È proprio innamorato, sa tutto di tutto Bene, allora detto tutto ciò, domani vedi attualità È 15 anni che siamo insieme Agosto sono 15 anni che siamo insieme Cioè, scusa, posso chiederti quanti anni hai? 34 quest'anno Quindi da quando ne hai 19 che ci fuggi sempre con lei? Sì, proprio Possono rispedire in camasutra Sempre fedele Ma questa sera vedremo Ma vabbè dai, ci crediamo eh, ma no Vabbè Allora, domanda, se mi sai rispondere io ti regalo un free rink Domanda di attualità, ok? Era su tutti i giornali In che stato è stata comprata la laurea del trota? Ha fatto scandalissimo In che stato? In Italia In che stato? In Italia Il trota, sai chi è il trota? Sì Il figlio di In Calabria No, è stata comprata, pensa un po' Loro che hanno fatto la guerra è in Albania Cioè, di tutti gli stati proprio lì No, devo dire Non lo sapevo, scusate Cioè, ci spari i comuni ma ci fai laureare il figlio Non lo sapevo, scusate Va bene, vai Salutiamo, saluta chi vuoi Ciao a tutti Buon divertimento I miei amici sono tutti qua Tè Ciao a tutti